Venire sull'autostrada, fermano un camion carico di tubi e allora debbano fare il verbale perché il camion era sopra carico. Allora prendono il tacchino e cominciano a scrivere, oggi sull'autostrada abbiamo fermato un camion carico di tubi, allora ci fa l'appuntata che era bene, dice tubi, quanto b ci dobbiamo mettere, quanto b? E dice non lo so, ora telefoniamo a Marasciallo in caserma e allora telefono col telefonino, telefono a Marasciallo nella caserma e il Marasciallo dice abbiamo fermato un camion carico di tubi, abbiamo fatto il verbale, Dice non sappiamo quanto b dobbiamo mettere nei tubi, bestia, siete un pugno di imbecille, che cazzo vi vanno a fare sull'autostrada a fare il verbale? Guardate i tubi, guardate i tubi, in quelli piccolini gliene mettete una, in quelli grandi gliene mettete due, anche se non sapeva quanto b dobbiamo mettere, ingegnato.